Ho avuto l'occasione di essere il narratore per questa bellissima manifestazione, non sono di Nardò, sono nato a Fiorano, ma ho origini serentine e per questo ringrazio ogni giorno per questa cosa, perché non passa un anno che non può trascorrere almeno un giorno a Nardò perché la sento dentro di me, sono quelle cose che fanno bene al cuore e quindi la manifestazione è andata bene, è stata una ripresa dopo tanti anni che non si verificava, che non c'era più occasione di poterla mettere in auge e di conseguenza tutti hanno dato molto sudore per poter fare in modo che questa manifestazione riuscisse al meglio possibile e credo che la piazza comunque abbia risposto bene, c'erano tantissime persone ieri, c'erano moltissime persone oggi e tutti quanti credo che sono rimasti molto contenti della manifestazione, quindi spero vivamente che sia una tradizione che ha avuto inizio, che ha avuto una ripresa e che possa averla negli anni a venire, questo è l'augurio che personalmente posso fare per la cavalcata storica di Nardò. Partiamo dal 2013, speriamo di rivederci anche l'anno prossimo, credo come sono sicuro. Grazie.